Mentre a Venezia d'ora in poi scateranno sanzioni non solo per chi vende ma anche per chi compra e attacca i lucchetti, a Mestre ha preso il via da qualche mese un'iniziativa rivolta ai cittadini a testimonianza dell'amore per la città. Donando un lucchetto ed un messaggio d'amore per Mestre partecipano a questo Guinness. Un Guinness per Mestre perché l'idea di comporre una lunga catena di lucchetti che faccia il giro della torre non l'ha ancora avuta nessuno. L'iniziativa è a scopo benefico e non vuole essere invasiva per il territorio. Non deturba, non danneggia nessun patrimonio, anzi siamo assolutamente a favore per il bene della città. Questi lucchetti non saranno messi da nessuna parte, saranno dati in beneficenza, per cui ho venduti a peso a un artista che vorrà lavorarlo, il materiale per cui saranno dati in beneficenza e non saranno messi da nessuna parte. Pertanto se qualcuno che li toglie vuole donarceli, noi siamo qui perché ce ne servono tanti. Abbiamo chiesto a tutti le associazioni, perfino abbiamo scritto al commissario Zappalorto e stiamo ancora aspettando una risposta. I lucchetti vengono raccolti nella pizzeria più vecchia di Mestre Garibaldi. L'importante è che siano accompagnati da un messaggio. Perché questo verrà raccolto in un libro che io scriverò, pubblicherò e dove appunto finalmente cerchiamo di smuovere un certo orgoglio cittadino e poi soprattutto smuovere, togliere quei luoghi comuni su Mestre che l'hanno incatenata, altro che lucchetti. Grazie.